Ok, let's go In questo episodio della serie in quanto nel primo vi ho spiegato come installare le mod di Minecraft sul vostro Minecraft In particolare la mod di cui voglio parlarvi oggi è... Botania! E la prima mod che andremo a scoprire in questa serie è la proprio la botania Potremmo vedere che qui nel nostro mondo si sono spawnati tantissimi diversi fiorellini Come per esempio questo, questo, questo E abbiamo una nuova creative tab dedicata alla botania Che è fatta molto bene attraverso una sua sezione di ricerca personale eccetera eccetera Veramente questa mod è fantastica È una delle mie mod preferite se non la mia preferita Io preferisco di gran lunga le mod magiche, le mod tecniche Questa è una mod magica naturale Che è veramente molto semplice nel suo genere ma è fantastica Permette di fare moltissime cose diverse Aggiunge veramente un sacco al gioco di Minecraft Quindi quasi quasi pulisco da questo terriccio l'area Da questo terriccio scusate, da queste foglie l'area E lo farò con botania così faccio un piccolissimo assaggio di cosa questa mod può fare Quindi guardate Un piccolissimo assaggio, proprio una di quelle piccolissime cose Che può fare questa mod Proprio una delle piccolissime modi che può fare questa mod E questa è una delle cose più, più basilari Quindi si pulirò un po' qui il terreno per prepararci per il nostro spotlight E ci risentiamo in 5 minuti Ok, perfetto Cominciamo con la botania Ok, ora la prima cosa che dovrete craftare per cominciare con questa mod È più o meno tutto quello che... La solita cosa delle mod magiche Insomma, quello che c'è più o meno sempre nelle mod magiche Ovvero, un libro Il libro che vi guiderà nella serie, in tutta la serie E questo libro è il Lexica Botania Ora, vediamo se riesco a trovarlo qui nel macello di cose che aggiunge questa mod Guardate quanti oggetti Guardate quante belle cose Che andremo a scoprire tutti insieme Magari non proprio tutte Perché sapete che ho messo un po' tante Però comunque cercherò di farvi vedere almeno le basi Insomma Eccola qua, la Lexica Botania Ce ne sono due versioni Ma di questa parleremo tra un poco Vedete che la prima versione si crafterà semplicemente Vedete Con un qualsiasi sapling e un libro Quindi prendiamocela Ed abbiamo la nostra Lexica Botania Boom Ora abbiamo questa fantastica interfaccia Nella quale potremmo andare nelle basics Che è quello che andremo a scoprire oggi Perché questo sarà un mod spotlight in più puntate Andremo nelle basics e mechanics Andremo nella mana manipulation Generating flora Functional flora Natural apparatus Beavles and accessori Alphamassi Mystical items Michelinus E lexicon index Queste sono tutte le diverse cose in cui si divide questa mod Queste sono le basi Poi queste sono tutte le cose E lexicon index Semplicamente sono tutte le cose Nelle quali voi potete scrivere per esempio La C e la I Vedete tutte le cose che contengono questo nome Eccetera 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 Inoltre un'altra bella funzione Della Della lexica botania Che forse voi andrete in giro Con questo libro Nella lexica botania E guarderete un qualsiasi blocco E creerete lo shift Vedete che ci si dirà Grass block e minecraft wiki Se noi cliccheremo col destro Ci aprirà la pagina del minecraft wiki Del grass block Oppure stessa cosa Se noi guarderemo A un fiore della botania Con questo libro Quindi per esempio Possiamo vedere Questo qua E potremmo far così E ci aprirà la parte Del lexica botania Che ci spiega Cosa sono i mystical flowers Oppure potremmo andare In un qualsiasi altro oggetto Di qualsiasi altra mod Purtroppo al momento Non ho altri modi installati Allora se avessi altri modi installati Per esempio Oh si Ho il chicken chunks Ho il chunk loader Giusto Per esempio Prendiamo il chunk loader Che è uno strumento Di un'altra mod E lo migliamo Con il lexica botania Andrà sull'ftb wiki E cercherà il chunk loader Quindi ragazzi Veramente è una guida Più o meno per tutti I blocchi esistenti Su minecraft Compresi Tutti i blocchi esistenti Delle mod Veramente fantastico Ok Cosa ci serve Per cominciare Veramente con la botania Allora La prima cosa che dovreste aver visto Qui intorno Sono che Spawneranno nel mondo Tantissimi diversi tipi Di mystical flowers Possiamo volare in giro E trovarne qui Per esempio uno viola E magari Mettiamo Attivi per ora I E wait Che mi ricordo come si fa Perché non lo faccio mai World I like titans shown Così possiamo vedere Qui sopra Vedete che sono Mystical black flower Qui c'è il purple flower E Qui abbiamo Per esempio I bianchi No questi sono di minecraft Vabbè comunque Spawneranno I fiori Anche in abbondanza Vedete qui ne abbiamo Dei light blue Qui ne abbiamo Dei blue Poi questi sono È un bioma che ne spawna Pochino Ma ci sono dei biomi Dove veramente siamo Ricoperti di fiori Non avete veramente idea Allora appunto Con questi fiori Saranno proprio La base con cui potete Craftare tutte le cose I fiori infatti Messi in una crafting table Prendiamo una crafting table Per dimostrarvi Prendiamo una crafting table Ops Crafting table per dimostrarvi Prendiamo un flower Qualsiasi fiore E vedete che Per esempio Messo così Ci darà due petali E questi petali Saranno quello Che noi useremo Per craftare Tutte le fiori Con questa mod Inoltre potremmo anche usarlo Con un pestle and mortar Per craftare Della flora Yellow powder Che praticamente Sono dei coloranti Naturali Sono dei coloranti Che potete usare Al posto dei coloranti Di minecraft vanilla Quindi potete usare I coloranti Al posto dei coloranti I coloranti Al posto dei coloranti Yes Allora Il primo blocco Per la prima cosa Che vorrete craftare Sarà un petal apothecary Petal apothecary Quindi Ora Andiamo a cercare Il nostro petal apothecary Questo qui Esattamente Proprio questo qua Petal apothecary E piazzarlo Da qualche parte Nel mondo Quindi per esempio Qui Eccolo qua Questo sarà il nostro Primo blocco Nella quale potremo Creare cose Quanto un blocco e mezzo Quanto pare Quindi non possiamo Saldarci sopra E così non fa nulla Infatti deve essere Riempito d'acqua Quindi Prendiamo del water 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 E facciamoci Una Mini fonte D'acqua infinita Qui Proprio giusto per Rifillare il nostro Petal apothecary Vedete che adesso E' pieno E dopo prendiamo Dei petali E possiamo craftare Dei fiori Qui all'interno Ora ci sono Due tipi di fiori Che andremo a scoprire Tra poco Il primo fiore base Con il quale dovrete creare Prima di poter creare Qualsiasi altro fiore Più o meno Sarà la Pure Daisy Questo è veramente Il primo fiore Vi serviranno Quattro Non pal Petal Vi serviranno Quattro petali bianchi 1, 2, 3, 4 E dovrete gettarli Qui dentro 1, 2, 3, 4 E dopo Una volta che avrete tutto Intanto potrete vedere La recipe qui dentro Vedete E un momento Qui esatto Petal apothecary Quattro cose Una volta che avrete All'interno Tutto quello In cui avrete bisogno Potrete prendere Di seed vanilla Del grano Gettarli qui dentro E ottenere La vostra Pure Daisy Piazziamola nel mondo Per esempio qui Cosa fa questo Fantastico fiore Ora lui Prende Qualsiasi legno Quindi per esempio Lockwood Ma anche Andrebbe benissimo Il dark oak O qualsiasi altro fiore E la stone Però la smooth stone Non la cobblestone E possiamo piazzarli Qui intorno Al nostro simpatico blocco Quindi così 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 E così Per esempio E trasformerà Questi blocchi Se gli diamo un minuti Ops Ho aperto la pagina Della minecraft tricky Col libro Se gli diamo un minutino O comunque qualcosa del genere Trasformerò questi blocchi In living wood E living stone Andiamo a dare un'occhiata Living wood E living rock Scusate Non living stone Ma living rock Questi due blocchi Sono i blocchi I blocchi Veramente fondamentali Della mod Teneteli veramente Bene a mente Perché vi serviranno Per tantissimi crafting Uno dei quali È il living wood twig Che è questo Simpatico amico qui Che ci serviranno Tre living wood twig Quindi prendiamone uno in più Mettendoli così In una crafting table Comunque si craftano Come con degli stick Normalissimi È dei living wood twig In una crafting table Con due fium Petali qualsiasi Io per questo mod spotlight Andrò Con il lime E il Arancio Lime e arancio Perché no Potete farlo con qualsiasi combinazione E creerete una Wand of the forest Questo è lo strumento Fondamentale Della vostra Motania Vedete intanto Che ha due funzioni Alla function mod In cui siamo ora E se noi shift Clicchiamo con il destro Andrà in bind mod Che è un'altra funzione Function bind Function bind Function bind E vi servirà molto di più La function mod Oh avete visto Sono appena trasformati In living rock E living stone Living wood E living rock Scusate Ok Ora Cosa possiamo fare Con la wand of the forest Per ora nulla Però Se noi creiamo Una Cioè con della living rock Quindi prendiamo Della living rock E creiamo Una forma così Otterremo Una Diluted Mana Pull Questo è un altro Blocco fondamentale Della mod Tenetelo bene a mente Questo è il blocco Dove noi potremo Immagazzinare Il nostro Mana Ma merlo Che cos'è il mana Vi starete chiedendo Ora il mana È l'energia Di questa mod È tutto ciò che Che noi potremo creare In questa mod Avrà principalmente Lo scopo Di creare mana Oppure di utilizzare Del mana Per Creare cose utili Al nostro player Quindi Praticamente Tutto quello che crea Mana sono dei fiori Che potrà essere usato Il mana Da altri fiori Per creare oggetti utili O comunque per fare Delle azioni utili Ok Fin qua ci siamo Ora appunto I due tipi di fiori Che noi abbiamo Sono Generating flora E Functional flora Generating flora Genereranno il mana Ok Questi sono Giusto alcuni Ce ne sono anche di più Credo E poi abbiamo Functional flora Che invece Servono a qualcosa Per esempio Se guardiamo L'agricarnation Accresce Il grow tick Delle piante Quindi se noi Teremo Del grano E a fianco Un agricarnation Le piante Andranno molto Più veloci a crescere Però servirà Del mana Per farlo funzionare Per generare Del mana Serviranno Degli altri fiori Ora Guardiamo Abbiamo Guardiamo Queste comunque Sono tutte le cose Con cui potrete Manipolare il mana E Ci arrivi però In un momento Guardiamo I nostri Generating flora Quindi Vediamo proprio Il più base Che è il daybloom Che si crafterà In questo modo Vedete Ora io non farò mai Più i crafting Petalapothecary Perché sono leggermente Noiosi da vedere Però possiamo Ad ogni modo Fare così Insomma Prendercelo E possiamo Piazzarlo così Boom Ora se noi Stiamo nella nostra One of the forest Potremmo vedere Che questo daybloom Starà lentamente Creando mana E quando Sarà abbastanza Potremmo Mandarlo in questa Mana pool In un certo modo Vedete comunque In function mode Potremmo cambiare La funzione di questa Mana pool E vi spiegherò Cosa vuol dire In un momento Ad ogni modo Ora voi potete vedere Che i daybloom Sono le pannelli solari Come dire Che hanno mana dal sole Potremmo metterli In questo pattern Per esempio Ma noterete che ci sono Queste specie di righe Che connettono Quando ci sono queste righe Non è buono L'efficienza Di mana bloom E dei daybloom È decimata Noi dovremmo toglierli E metterli in una pattern A scacchiera Per eliminare queste righe Per fare in modo Che siano più efficienti Possibili Ora un'altra cosa Che ci servirà Saranno Oh magari Cambiamo la pattern Per motivi tecnici E wait wait Cosa sto facendo Wait a moment Perché sono leggermente In difficoltà Ok E un'altra cosa Che ci servirà Per trasferire questo mana Nella mana pool Essendo che non vada solo Purtroppo È il mana spreader Mana spreader Ce ne sono di vari tipi Questo è il primo Poi c'è il redstone Che può essere Spento e acceso da una leva E poi ci sono questi due Che sono dei top tier Quindi li vedremo In un momento Ora possiamo piazzare Il nostro mana spreader Così per esempio Con il puntino Che guarda in questa direzione Piazzare la nostra mana pool Qui E vedete che questo Si starà connettendo Con la nostra mana pool E i daybloom Quando avranno raggiunto Abbastanza mana Perché veramente Questi generano Un mana Un ammontare di mana Che è veramente pochissimo Stiamo parlando di pochissimo Vedete Una volta che avrà raggiunto Abbastanza mana Il nostro mana spreader Sparerà un raggio di mana Nella mana pool Per immagazzinare Del mana Fush Ora attendiamo Che questo attenda Magari intanto Piazziamo più mana Più daybloom Tra il resto Tutti gli fiori Dello stesso tipo Comunicano tra loro Quindi non serve avere Un mana spreader Davanti ad ogni daybloom Comunicheranno Tra di loro Per fortuna Perché se no Sarebbe stata una cosa Veramente Odiosa Vedete che Appena sparato Appena sparato E la nostra mana pool Si è riempita Ad ogni modo Questa è una Diluted mana pool È una mana pool Veramente scarsa L'unica cosa Che può fare Perché siccome Si fanno delle Trasmutazioni Questa mana pool Gettando per esempio Degli oggetti All'interno Si cambieranno L'unica cosa L'unica trasmutazione Che può fare Vedete È utilizzare La diluted mana pool Buttarla al suo interno Per ottenere Una mana pool Vera Originale Una vera mana pool Questa può contenere Una tonnellata in più Di mana Veramente tantissimo Mana in più E potrà fare Tutte le trasmutazioni Di cui avrete bisogno Ora io non userò Questa per lo spotlight Ma per dimostrazione Userò La everlasting Mana pool Che è uno strumento Di creativa Questa qui È uno strumento Di creativa Non si potrà essere Craftato in survival Non ha Non ha un crafting E contiene Mana infinito Lo userò appunto Per farvi vedere Per la creative Ad ogni modo Questa non è craftabile Voi dovreste usare Questa maniera qua Se volete essere legittimi Un'altra cosa Che voglio farvi vedere Se noi piazziamo Mana spreader così E mettiamo In bind mode E prendiamo magari Una mana pool Da mettere qui E noi vogliamo far sparare Il mana spreader qui Possiamo Shift e right click Su questo blocco E shift e right click Su questo Vedete che adesso Sono collegati Quindi questo mana spreader Si è ruotato in questa direzione Per sparare qui E possiamo ruotarlo A 360 gradi Possiamo ruotarlo Veramente in tutte le direzioni Che vogliamo Fantastico Veramente fantastico È utilissima questa cosa Ora Altri metodi Per generare Correnti corrente Per generare mana Per esempio Sono l'end of flame Che genera Mana con del calore Cioè con del calore Che sarà generato Da del carbone O comunque da qualsiasi materiale Che brucia Quindi legno Cose così Vedete che servono Di mana petal Per questo Quindi dovete prendere Dei normalissimi petali Quindi per esempio Se voglio un white mana petal Dovete prendere un petal normale E spararlo Quello all'interno E otterrò un mana petal Per il costo di un po' di mana Veramente molto facile Dopodiché abbiamo Per esempio Ovviamente non vi farò vedere Tutti i fiori della mod Perché sono veramente tantissimi Potete voi leggervi da qua E capire cosa vogliono Per esempio La gorgamildis Prende tutto il cibo Che c'è Nel suo intorno E lo trasformerà in mana Quindi per esempio Potremmo dargli un pane Una bistecca o così Il munchdew Prenderà qualsiasi foglia Vicino al coso E la trasformerà nel mana E mangiandola Insomma Quindi un buon modo Per togliere le foglie E ce ne sono veramente Altissimi Del più creativi Il nitrid È il contrario del delu Un genere accorrente Solo di notte La rosa arcana Usa l'esperienza Per generare mana C'è il kakimiris Che usa la torta Vediamo Se riesco a trovarlo qui Eccolo qua Vedete il kakimiris Che usa la torta Mangia delle torte Nelle sue vicinanze Per generare mana Ce n'è uno Che usa la tnt Per generare mana Potete generare mana In qualsiasi maniera Praticamente Quindi sì Ma ora Diamo un'occhiata Alla nostra Functional flora Quindi facciamo qualcosa Con questi Con questi nostri fiori Uno di quelli Dei fiori Che mi piacciono molto È l'exo flame Per esempio Che è il contrario Dell'end of flame Vedete che se noi prendiamo L'exo flame E la portiamo qui Lui prenderà mana Da solo Quindi non ci servirà Un mana spreader Per fortuna E poi Qualsiasi fornace Che noi metteremo Al suo fianco Quindi per esempio Vedete una fornace qui Cuocerà qualsiasi cosa Al costo di mana Invece che al costo Di carbone Vedete che cuocerà Da sola E sarà anche più veloce Del normale E userà il mana Nella pool Per cuocere Fantastico Quanto è fantastica Questa cosa Mi piace veramente tantissimo E questa è solo una Delle piccole cose Che potete fare Con mana Potrete per esempio Prendere una Fallen Canade Boom E già dare Rigenerazione 3 A tutti quelli Che stanno intorno a voi Oppure intorno Alla Fallen Canade Potrete prendere Non lo so Andiamo nell'exca botagna Controlliamo Un hopperok Eccolo qui E questo fiore Funziona come Questo funziona Anche senza mana Vedete Noi lo mettiamo qui E praticamente Se noi mettiamo A fianco una chest Funziona con A fianco una chest Noi possiamo Oggettare qualsiasi oggetto E lui in poco tempo Lo risucchierà Lo piazzerà Nella chest Il vantaggio Dell'hopperok È che se noi lo piazziamo Al vicino A una mana pool Avrà un raggio Molto maggiore Quindi per esempio Dovrà prendere anche un blocco Che a terra qui Ecco vedete Veramente una cosa Veramente lontana Molto utile l'hopperok E ci sono tantissimi fiori Jaded Amaranthus Spawno altri fiori Vedete Prendiamo il Jaded Amaranthus Vedete che comincerà Con il corso di mana Di spawnare altri fiori Di botania Qui intorno Vedete per esempio questo Con i quali potremo utilizzare Per creare i nostri petali E tantissime altre cose Vi consiglio veramente Di leggere tutti I functional flora Da lexica botania Per capire tutto Quello che possono fare Per esempio Non lo so Andiamo a vedere C'è il Gigliulla Che tiene qualsiasi Insomma è una specie di recinto Una specie di fence Invisibile Veramente tantissimi Functional flora Ci sono Un sacco Sacchissimo Di functional flora Che potrete tutti scoprire Scaricando questa fantastica mod E dirmi quali sono i vostri preferiti Qui sotto nei commenti Sarò felicissimo Di leggerli tutti Eccetera Eccetera Passando oltre Potremmo Vedere In natural Apparatus Questi sono dei blocchi O comunque degli oggetti Che usano mana Ma non sono fiori E che anche questi Fanno delle cose Molto 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 utili Per esempio Guardiamo Lander Overseer Che è uno dei miei preferiti Veramente è fantastico Questo Ora Piazziamo Qualche blocco Qui sopra Così Piazziamo Un Lander Overseer Vabbè Facciamo così Piazziamo una Redstone lamp A fianco All'ander Overseer Quindi Qui così Vedete che adesso è spenta Ma non appena io Guardo il blocco Si accende Svegne Accende Svegne Insomma Quando noi guardiamo Questo blocco Lascerà un Redstone signal È veramente Fantastico Ragazzi Mi piace tantissimo C'è la Open crate Per esempio Andiamo nella Open crate E dovremmo Pillarare un po' Sopra però Per dimostrarvi L'utilità Della open crate Praticamente Voi se getterete Qualsiasi oggetto Qui dentro E Adesso Devo ricordarmi Come funziona Ad ogni modo È una specie di dropper Che spara le cose Giù Semplicemente in giù Vedete Ok Mi sfuggiva una cosa Ci serviva anche un hopper Appunto E se ora noi metteremo Qualsiasi oggetto qui dentro Vedete che lo sparerà Sempre in giù Al contrario Dei dispenser vanilla Che Se voi vi faccio vedere Dei dropper Scusate vanilla Drop Eeeh Ce la faccio scrivere dropper Contrino di dropper vanilla Che quando noi dovremmo fare Andare qualcosa in giù Per esempio Pizziamo il dropper Pizziamo un ender overseer Perché no Proprio giusto per fare i fighi Mettiamo un ender overseer Vedete che Ora è atterrato qui Ma se noi mettiamo di nuovo dentro Atterrà più lontano Eccetera Mentre questo Sparerà sempre Straight down Quindi yeah Veramente fantastico Ora Come già detto Io non andrò A dirvi tutto Quello che si può fare Con questa mod Ma vi farò vedere Alcuni oggetti E le meccaniche principali Quindi Ora Siamo a 20 minuti Di episodio Quindi più o meno Questo è tutto quello Di cui ho tempo per oggi Voglio solo farvi vedere Il mana pylon Perché sono veramente belli Lucrano veramente fighi Non il mana star Ma il mana pylon Eccolo qua Guardate che texture Fantastica ragazzi Guardate che texture Fantastica Ora ditemi Voi Se questa non è la texture Una delle texture più belle Che non avete mai visto In una mod Mi piace veramente moltissimo E questi Con il solo costo Di 2 mana pylon Quindi vedete Con 2 mana pylon Ops Che si craftano Semplicemente così Ce la posso fare Ragazzi Si craftano così Con un mana dynon Che è un diamante Messo in una mana pull E il mana steel Che è del ferro Messo in una mana pull Vedete Potremmo incantare oggetti Fino al livello 30 Quindi prendiamo Una spada O un livello 30 Senza bisogno Di nulla Fantastico 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 E in più Potremmo usare anche Un mana in center Per incantare Con costo di esperienza Al costo di mana Fantastico Mi piace tantissimo Questa moda ragazzi Veramente Ora l'ultima cosa Che voglio far vedere Prima di chiudere l'episodio È l'armatura Di mana steel E gli strumenti Di mana steel Ora prendiamoci Un full set Di armatura Di mana steel Quindi questa E come già detto Il mana steel È semplicemente Del ferro Quindi prendiamo Del ferro È semplicemente Del ferro In una mana pearl In una mana pull Scusate Vedete Boom È semplicemente Del ferro In una mana pull Allora Noi con questo Mana steel Potremmo creare Un'armatura Che Al posto di subire Danni di durabilità Se noi avremmo Un mana tablet Che Prendo quello di creativa Anzi prendo questo Quello vuoto Per intanto vi faccio vedere Come funziona Il mana tablet È una specie di batteria È uno storage Portatile di mana Quindi adesso noi facciamo Diciamo A questo Everlasting Guilty pull Di sparing mana To items Quindi con Shift right click Della function mod Gli diciamo Di dare mana Agli oggetti Se noi raffizziamo Il mana tablet Qui Si starà lentamente Riempiendo Quindi boom Vedete che si è un po' Riempito E darà mana Al nostro mana tablet Una volta che l'avremo Riempito Ora io prendo Quello di creativa Che è infinito Ma Teoricamente non potresti Insomma Una volta riempito Noi avremo il nostro mana E l'armatura Invece di prendere danno Quindi per esempio Se i mob Mi attaccano così Prenderà Toglierà del mana Al nostro mana tablet Ma l'armatura Rimarrà sempre intatta Senza perdere durabilità E la stessa cosa Succederà Al nostro mana Steel Per esempio Piccone o spada O comunque tutto Per esempio Prendiamo il piccone Vi faccio Vado in survival Vado in survival Vado qui sotto Dove c'è della stone Quindi qui Spacco Vedete che il piccone Non perde durabilità Ma se noi prendiamo Un mana tablet Non di creativa Quindi per esempio Questo Vedete che Questo Vabbè prendiamo il mana tablet Non di creativa Vedete che Lentamente Ci toglierà Mana dal tablet Ok Che è un bug Vedete che adesso C'è la durabilità Insomma se noi facciamo 3H Possiamo vedere Che abbiamo Mille su mille Di durabilità Anche se in realtà È il mana che abbiamo All'interno E se noi spacchiamo Un po' di blocchi Qui proprio giusto Un paio di blocchi Potremmo vedere Che la durabilità È scesa Adesso è al 998 Per esempio Insomma E il piccone Non ha perso durabilità Fantastico Veramente fantastico Insomma Craftiamo una volta I nostri strumenti Non abbiamo più bisogno Di ripararli E questo amici miei È tutto quello Per cui abbiamo tempo Per oggi Ma come vedete Nella mia mano Ci sono tantissime altre cose Che meritano Di essere scoperte Di questa mod Ed infatti Questo sarà Un mod spotlight A più puntate Quindi questa è stata La prima puntata Del mio wiki mod Sulla botania Non perdetevi I prossimi episodi Del wiki mod Sulla botania Per scoprire Come andrà avanti Ci sono tantissime altre meccaniche Come per esempio Gli elfi Come per esempio La brewery Le pozioni Come per esempio La red string Come per esempio Tantissime altre cose Terra still Boss Botania Ci aspetta Tantissime altre cose Ancora Quindi Non perdetevi Nei prossimi episodi Del mod spotlight Delle wiki mod Continueremo La nostra avventura Nella botania Ma per intanto Siamo a 24 minuti Di episodio Quindi io Vi ringrazio Per la visione Spero che questo video Vi sia piaciuto Scrivetemi nei commenti Se avete scaricato Botania E se lo avete installato Secondo i miei consigli Dello scorso episodio Quali sono i vostri oggetti preferiti Che avete scoperto Fino adesso E noi ci vediamo In un prossimo episodio Wops Ciao ragazzi Ciao ragazzi